Introduzione. Rain Bird, leader mondiale del sistema di irrigazione, propone un utilizzo intelligente dell'acqua. Con i sistemi manuali, alcune zone vengono irrigate eccessivamente, mentre altre non ricevono acqua a sufficienza. Con un sistema di irrigazione automatico, l'acqua viene distribuita solo dove serve e con un migliore utilizzo della stessa. Come funziona un sistema irriguo interrato? Un impianto di irrigazione automatico è composto da il programmatore, le elettrovalvole e gli irrigatori. Il programmatore gestisce i tempi di irrigazione di ciascuno dei settori. Le elettrovalvole sono responsabili dell'apertura e della chiusura dei vari settori di irrigazione quando stabilito dal programmatore. Gli irrigatori distribuiscono l'acqua nelle varie zone del giardino. Questo avviene per ciascuno dei settori con i tempi, la frequenza e la durata che abbiamo definito nel programmatore. Come scegliere? Gli irrigatori vengono scelti sulla base della superficie da irrigare. Per i prati di piccole dimensioni, utilizzare irrigatori che arrivano fino a 4 metri. Per le superfici di medie dimensioni, scegliere gli irrigatori dinamici che raggiungono distanze tra i 5 e i 15 metri. Per i giardini rocciosi e aree arbustive si utilizzeranno le testine XPCN. Per l'irrigazione di siepi, alberi e aiuole si utilizzeranno i gocciolatori autocompensati. Irrigatori statici Unispray. Gli irrigatori statici Unispray offrono settori di irrigazione regolabili da 0 a 360 gradi senza attrezzi. Si può regolare l'arco di lavoro ruotando l'anello dentato e si può ridurre la distanza del getto agendo sulla vite centrale posta sulla testina con un cacciavite. Ugelli rotanti. Rotary. Gli ugelli rotanti permettono di risparmiare fino al 60% di acqua. Gli ugelli sono montati su irrigatori Rainbird con un sollevamento del canotto di 10 cm. Irrigatori 3500 e 5000. Gli irrigatori della serie 3500 e 5000 offrono prestazioni eccellenti e uniformità di irrigazione. La distanza del getto d'acqua può essere ridotta fino al 25% e la regolazione del settore si effettua con un semplice cacciavite. Testine XP-CN autocompensanti. Le testine sono montate su irrigatori Rainbird con un sollevamento del canotto di 10 cm. Offrono un'irrigazione precisa e con basse portate per piccole aree con alta densità di piante. Sono disponibili due diversi modelli per distanze da 0,8 a 1,2 metri, regolabili con un semplice clic. Elettrovalvole JTV e LFV. Le elettrovalvole JTV e LFV sono molto affidabili e di facile manutenzione. Doppio filtro nella membrana e nel solenoide, che le rendono altamente resistenti alle acque con materiale in sospensione. Apertura manuale con una piccola rotazione del solenoide. Programmatore STP. La nostra serie di programmatori STP è la più semplice da installare e programmare sul mercato. Impostazione dell'orario d'inizio, della durata, del numero di irrigazioni al giorno e la scelta dei giorni di irrigazione per ogni valvola in maniera indipendente. Morsettiera fornita con un codice colore e la specifica connessione per il sensore pioggia. Protezione contro le sovratensioni. La memoria non volatile mantiene le informazioni del programmatore per un tempo indeterminato. Regolazione dei tempi di irrigazione in base alla stagione e funzione di sospensione pioggia per risparmiare acqua. Rain Bird, leader mondiale dei sistemi di irrigazione.